Il parkour è stato creato No sui non me trolla per favore Non me trolla Non me trolla Perché c'è la pistoletta Te trollo io sui Se non me trollite Aspettate Black si è trollato Ok noi possiamo andare Via 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 Dobbiamo andare più veloci di dare in alto Se prende le armi dopo un bel problema No 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 Ci sta superando Via 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 Sui te sei trollato Meno male Sali 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 Ok adesso Ok per di qua Andiamo 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 veloci Questo è un parkour molto rapido Oh mio dio Già so cascato Mannaggia a me regà Dovevo salire di lato Come vi ho sempre detto nei parkour Perché salire centrali Succede che uno si trolla No si è suicidato pure dare in alto Ok Black rimani avanti per favore Andiamo 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 Ok Saliamo per di qua Dai sui Mannaggia a te sui Io perdo tempo Perdo tempo qui Sali Sali Oh finalmente No che c'è C'è un suino nemico dietro De me forse Black sta avanti Dimmi di sì No dove sono andato Dove sono andato Regà Mi sta a confonde Di qua Sì 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 Sali 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 Andiamo anche per di qua Perfetto così Qua regà Rarrento un pochetto Tanto Credo che Black sia avanti Credo di sì Andiamo 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 Ok E adesso io salgo di lato Non me ne frega niente Ok Però seguiamo Dai sui Sali Di lato di nuovo Perfetto così E io da qua Vado proprio di qua Perfetto Andiamo 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 Grandissimo Ronald Che fa il potere E di qua al parkour Sì Credo di sì Aspettate Oddio Dare in alto Ok Un potere pure io Vai Un potere del suino Anche con i suini nemici Black sta là davanti E lì ci dovrebbero essere le armi Ok suini andiamo Vogliamo andare Via 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 Non premo x per andare più veloce Perché Oppure che si bug Dopo che asca giù Ok Andiamo Ma è da tanto Che non faccio i parkour No 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 C'ho paura Di questo equilibrio So che è molto facile Però tipo è 3-4 mesi Che non faccio Un parkour Vero Ok Saliamo 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 No Sui Sono rimasto trollato È il potere Che mi fai Io qua Non so che fa Oh Oh grazie Mille GTA Ok Andiamo Perfetto Così E adesso ci dobbiamo Rigirare Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio Stavo quasi cascando in avanti Ok Ci sono altri equilibri E credo di si Credo di si Uno piccolino Piccolino Raga Ok Io vado piano 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 Ok Qua saltiamo Salta sui Ok Sai che black È già arrivato alle armi Eh Non lo so Proseguiamo Ok Questo è abbastanza facile D'equilibrio Quindi possiamo andare Veramente Tranquille Via 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 Ancora Mette sempre un po' d'ansia Anche se è la cosa più facile del mondo Questo equilibrio Però Si può cascare Ok Andiamo 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 Perfetto Così Però Proseguiamo Come ha giustiziato Black Tiger Non è arrivata le armi Allora Oh mio dio Non ditemi che c'è qualcun altro Eh No Dimmi di no Per favore Sui Sei nemico te Ah no è Ronald Posso stare tranquillo Allora Qua cos'è Dimmi che pure qua è glitchato Eh Oh mio dio Sono andato giù per un attimo Penso che stavo a cascare Qui si Ci conviene saltare Salta Sui Oh Sui Piano 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 No Ronald No No Che peccato Andiamo noi Via 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 Proseguiamo Ok Adesso bisogna andare qua Vai sui Vai sui Vai sui No regà qua non ci può salire Ah ok 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 C'è la pistoletta Infatti mi ricordavo inizialmente che c'era la pistoletta Davvero non sale ugualmente Proviamo di qua Qui forse potrebbe andare Andiamo Dai 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 sui Ok qua già dovrebbe salire No Perché non sale Non lo so regà Oh Non mi dite com'è salito Vi giuro che non Non ci ho capito niente Oh Le BMX ci stanno E qua ci stanno tutte le armi Che spettacolo Ok adesso però Di chi è il potere regà Ma di chi è È tutto Del suino Eccolo qua pure il sole Dai è così regà Abbiamo completato questo bel parkour suino Molto molto bello Voglio vedere un attimo la scultura Suina Che sta lì Che spettacolo Quando l'ho scaricato inizialmente credevo Che bisognava fare il parkour qui Però invece è di qua Mamma mia Pure fare il parkour Nella scultura del suino Sarebbe carino eh Anzi se lo faceva pure qui Mio dio che spettacolo Adesso Oltre a trollare Io mi andrei a fare un giro In BMX Ok Eccoci qua Io vorrei tanto la BMX Però Andiamo a prendere i suini Andiamo a fare la missione impossibile Via 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 Ok Vediamo se c'è qualche suino Da prendere Eccolo Chi è il primo? Non si riesce a capire Black Tiger Ok aspettiamo un secondo Che sta a fare pure un potere Sui sui Occhio all'elica dietro Che è molto pericoloso qui Cerchiamo ad atterrare Con cautela Sui Sono atterrato un po' strano eh Solo un po' Sali sui Sbrigate Noo regà Puro Black È crashato Se è crashato Allora lo falciamo Noo Che è successo Black Fai molta attenzione qua Devi stare attento Allora Quanto manca? Manca pochissimo Allora Qua Non so che Oh che sta a fare Noo regà Aspettate Aspettate Si è messo paura Il suino qua Che quale elica Ci prende Vedete regà È un suino impaurito Si è messo paura Non si sa il perché Aspettate Che possiamo fare adesso? Oh Ronald Ci ha fregato l'elicottero No che vengo tralciato Qui No Eh io vado di nuovo A fare il parkour Via 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 regà Un altro bel parkour Ce lo facciamo subito Salta sui Ok Andiamo Vai 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 Qua era tutto glitchato Mi sembra Sì Proseguiamo Qua bisognava saltare Qui Ronald Era rimasto trollato Mi ricordo Eh si Vai 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 Siamo già arrivati alle armi Perfetto così Io direi di andare a prendere La BMX E andare a trollare Un suino Uno solo però Ok Dobbiamo risalire Come prima C'ho la pistoletta Si Vai 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 Sui BMX Che Oh Cosa No regà Vi giuro che non stavo a guardare Come è cascato il suino Non l'ho visto Andiamo 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 Bella Ronald No Ronald Dove trollare Per favore Ok Andiamo Giù Moriamo se Caschiamo giù Uh Aspettate Perché dobbiamo andare giù Quando c'è il bel parkour In BMX No Ci ho ripensato È impossibile Non ce la faccio A stare qua Ok Dobbiamo scendere giù E andare a trollare qualcuno Vieni sui Scendiamo giù È già sceso Non lo so Moriamo No Non dovrebbe morire Ok Ok Andiamo 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 A trollare qualcuno Ce la dobbiamo fare No Ce l'ha fatta Ronald Mi sa di si Si Ce l'ha fatta Però è rimasto un po' trollato Dai sui Ce la fai pure te Ok Anzi adesso si fa muare Che bel trick Dai sui Sarta Uh Guarda Ronald Con l'hipster slide Io pure lo voglio fare Aspettate Dai sui Eccolo Eccolo L'hipster slide Dersui No Andiamo Andiamo a fare la gara GP con Ronald Di hipster slide Come vedete Ronald Sta pure curvando Eh Pure io sto curvando Bella sui Come stai Ronald Non mi veni addosso Ronald Che sta a fare gp Casca No Se continuava Che andiamo a fare Di bello Sui Occhio Sto potere Ok Aspettate Che qua Voglio fare Questo trick Dai sui Che ce l'hai fatta Eccolo qua Il bel trick Dersuino Se ce la faccio Mi rigiro pure Mi rimetto in un'altra maniera Però Non mi ricordo Come si fa Non lo so Vediamo fino a dove arriva Non posso cambiare trick Aspettate Come mi devo mettere Se mi devo cambiare Vediamo così No Niente da fare Ok Guardate quanti suini Pure suini Glitchati Comunque sia Il parkour Può finire anche qua Se vi è piaciuto Questo parkour Aspettate Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Seguitemi su Instagram Saluto tutti Vesizuin Val Grazie a tutti.